benvenuti a bordo comandanti io sono blizzard e oggi siamo qua su ring per vedere in azione il genova riuscio contro serov gaede fubuki fujin contro fubuki gignagni e t22 signori come sapete su questo canale youtube c'è una playlist dedicata alla regia marina dove verrà inserito questo video e io ho sempre avuto l'ambizione di in prima o poi mettere tutte le navi premium italiane di world of warships oggi andiamo a colmare questa lacuna perché mancava solo una nave a questa lista ovvero la regia nave genova si tratta di un incrociatore mai esistito prima come potete vedere siamo in azione tra l'altro non da top tier però ci sono alcuni tier 6 in acqua tra cui diverse battleship pesanti con cannoni importanti come soprattutto l'area pulse e la congo inglese e giapponese dicevo questa nave non è mai stata realizzata si tratta di un progetto da cui poi è derivato il trento questo perché come sapete le nazioni sconfitte nella prima guerra mondiale dovete subire pesanti limitazioni il 6 febbraio 1922 quando venne fermato il trattato di washington per il tonnellaggio il millimetraggio il numero di alcune marine che dovevano rispettare determinati termini da quelle diciamo trattato venne impostato il genova anche se poi comunque non venne mai realmente costruito questa nave comandanti ha alcuni primati veramente importanti al tier al tier 5 perché è una nave comandanti che si può spingere veramente in maniera importante dal punto di vista offensivo ha infatti dei cannoni da 203 millimetri è una delle soli tre navi incrociatori di questo tier con i cannoni da 203 le altre due sono l'exeter inglese e il furutaka giapponese il colpo in sap è estremamente performante questo incrociatore ha una nomea secondo me che abbastanza immeritata perché devo dire che dal punto di vista offensivo picchia picchia parecchio è in grado di colpire efficacemente sia le corazzate che le classici incrociatori e poi ovviamente con il colpo sap anche i destroyer possono essere tranquillamente danneggiati in maniera molto importante ha essenzialmente due problemi principali che sono l'agitata limitata e soprattutto la ricarica dei suoi cannoni base che è piuttosto lunga ma d'altronde è un po' una normalità considerando che devi usare le sap quasi tutte le navi armate a sap hanno dei munizionamenti piuttosto lenti almeno per quanto riguarda il compartimento italiano il suo hp sono 30.100 devo dire che anche in questo il genova è un degli incrociatori tier 5 con il maggior numero di hp un'armatura ridicola che poi vedremo nello schema di circa 70 millimetri e un datore di senso torpe dei 13 per cento quindi sicuramente i siluri li fanno malissimo ha una velocità importante con la bandiera dei 36 nodi e 2 con un raggio virato di 660 metri e un timone che è così così perché risponde in 8 secondi e 6 oggettivamente può esserci anche di meglio per quanto riguarda la sua capacità stealth in questo caso è peggiorata rispetto alla normalità questo perché vedete ho installato con il comandante sanzonetti che state vedendo in azione un setup dove vado a migliorare a potenziare i proiettili sap barattando un po questo aspetto con un mimetismo peggiorato con le setup e le skill comandante che vedrete a fine partita il vostro mimetismo arriverà a 11 chilometri 900 metri di spot in via acqua e 8 chilometri 600 via sommersa o via aerea quando venite spottati dalle porte aerei nemiche il suo compartimento offensivo è veramente importante perché conta 4 torbinate a 203 millimetri capaci di sparare ogni 20 secondi con un bradeggio di 22 secondi a 4 a 180 gradi se guardate in questa circostanza questa è la classica situazione che si può presentare quando il nemico va in inferiorità numerica sul lato se guardate il fu 거기 sta scortando la giuio cesare alla conche sono praticamente in disimpegno il nostro fuynia totalmente fuori posizione perché dovrebbe stare più al centro e noi possiamo sfruttare tranquillamente la conformazione dell'isola al centro per rovesciare la mappa andare sul versante sud e andare a colpire quello che attualmente è il lato forte del nemico che può contare da quella parte e quasi sette navi stiamo cercando poi di trovare un colpo su gnevni che è particolarmente veloce, in modo di destroyer più veloci del suo tier e riusciamo appena a sfiorarlo, devo dire che la balistica da 840 metri al secondo è diciamo simile a quella degli incrociatori francesi, quindi per chi gioca la marina francese è un habitué ma rispetto ad alcuni standard italiani i colpi sono leggermente più lenti, sicuramente è una questione di bilanciamento perché dovete considerare che la nave, essendo tier 5 e avendo canoni così potenti da 203 sicuramente dargli anche una balistica da 900 o 1000 metri al secondo l'avrebbe resa estremamente potente, sicuramente troppo è già secondo me comunque una nave decente la sua precisione è piuttosto notevole perché 122 metri di dispersione a oltre 14 chilometri con appunto questa balistica che vi ho elencato prima, per quanto riguarda poi il discorso legato ai proiettili veri e propri con il punizionamento dei proiettili SAP che penetrano fino a 54 millimetri, potete sparare delle salve fino a pensate a 5.335 di danno SAP alfa, che è elevatissimo per il danno di un incrociatore, mentre il colpo AP scende a 4.700, anche se ovviamente il fatto che possiate raggiungere la cittadella aumenta il bonus danno dei colpi veri e propri quando però non potete colpire la cittadella il colpo SAP forse è sempre la scelta migliore specie se utilizzate il setup che poi vi farò vedere nel post partita le secondarie che entreranno in azione alla fine di questo match sono 12 canoni singoli da 102 millimetri fino a 4 chilometri e mezzo nulla da segnalare anche se comunque hanno un 6% di fire chance soprattutto sparano ogni 3 secondi e mezzo quindi sono molto veloci qua troviamo il repulse che sta disingaggiando a sud vuole sempre forse andare a dare una mano alla squadra che è in in kiting a destra ovviamente quando sparate con le SAP cercate sempre di colpire la zona superiore dello scafo altrimenti i vostri SAP non avranno abbastanza penetrazione per fare male agli avversari specie quando parliamo delle battleship ho tirato i torpi in quella direzione perché magari potrebbe passare un destroyer fortunato un Fubuki, un Devni che sono stati spottati l'ultima volta in E e D2 ma è semplicemente un colpo in blind per quanto riguarda i siluri proprio sono 4 lanciatori doppi da 8 chilometri da 533 millimetri fino a 51 nodi come sempre la velocità dei siluri è particolarmente bassa guardate un po' qua quasi 8000 di danno sulle sovrastrature delle cortate a Dunkerque francese che è particolarmente leggera ve l'ho detto il colpo stato da 203 a questo tier è veramente molto molto potente ed è proprio per questo che la nave riesce a sviluppare dei discreti danni anche se appunto la ricarica è pessima se però riuscite a trovare la giusta posizione e continuamente a sparare sui target senza dare troppo a tirare troppo l'attenzione degli avversari il danno che può sviluppare il Genova può diventare interessante nell'arco della partita anche se a livello europeo sembra che non molti l'abbiano compreso perché gira intorno al 26000 di danno medio che è piuttosto basso per un incrociatore tier 5 diciamo che è a metà classifica ma oppure la seconda colonna diciamo quindi la parte bassa della seconda metà della classifica degli incrociatori tier 5 per quanto riguarda la difesa antisommergibile è armato con un air strike quindi un attacco aeroa da 4 km con due aerei che sganciano delle bombe fino a 4300 di danno quindi piuttosto elevate e una ricarica di 60 secondi la dunk air che abbiamo prima ingaggiato sulla fiancata sta ora cercando di scappare perché è rimasta con solo 10.000 HP abbiamo chiamato il focus fire guardate un po' posizionamento perfetto abbiamo l'isola che ci copre il fianco abbiamo il Gaede che con la sua cortina fumogena non permette alle navi a su di avvistarci quindi possiamo tranquillamente sparare sfruttando anche il tiro un po' a parabola di questi colpi che hanno appunto quella 840 metri al secondo di balistica è rimasto in fin di vita anche perché è arrivato un colpo del Mackensen da lunga distanza e aspettiamo di tirargli praticamente la salva finale il Gaede con i suoi cannoni di calibro piuttosto potente lo sta comunque impegnando ma ovviamente i 203 italiani sono di ben altro peso e per la Dunker non c'è alcuna possibilità di scampare Kill e questo Kill vuol dire che adesso aumenterà praticamente il raggio d'azione dei cannoni principali perché questo è uno dei sfighissimi bonus di Sansonetti e occhio perché poi si attiverà anche la ricarica migliorata quando arriveremo al Confederate il Mackensen sembra praticamente fermo là dietro non è ben chiaro quello che sta facendo ma ora sta attivando i motori il nostro è ovviamente più di target segnala che qualcuno ci sta puntando attenzione sempre quando qualcuno vi punta perché l'armatura è mediocre ma la cosa preoccupante di questa nave è la pessima dico pessima cittadella perché è altissima è altissima la cittadella quindi anche un colpo di Battleship del Mackensen che è una di cannoni potentissimi può veramente mettervi in difficoltà guardate un po' la Serov quasi 11.000 di danno sulla fiancata il colpo sap potenziato è incredibile specie quando c'entra anche le porterie a metanave la Serov comunque prima o poi riusciremo ad affondarla ve lo spoilero il Levi si sta trovando da questo lato sulle Gaide mentre lui sta cercando di impegnare il Mackensen mentre la nostra corra è stata rimasta da questo lato l'unica rimasta in vita sta ora impegnando la porterie e il Mackensen nemico nella zona di sud lato destro ormai ha completamente sfondato siamo quasi arrivati in base la partita capite anche voi che è quasi completamente segnata devo dire che il giocatore rumeno con i Gnevni giocava spesso di acceleratore con il timone si chiama di cambiare di territoria e questa cosa gli ha salvato la vita diverse volte sulle nostre salve a SAP per quanto riguarda l'anti-era è uno dei punti deboli della nave ma punti deboli in realtà no perché ho messo un fighter io come andati lo gioco con il fighter e il Genova semplicemente perché l'anti-era è talmente mediocre a venirmi addosso ed è una cosa che purtroppo accade spesso quella di incrociare delle portiere tier 6 come in questa occasione del resto dicevo l'anti-era è composta da cannoncini da 76 e 102 mm hanno un danno continuativo di 81 fino a 4 km e un danno flak di 956 il danno flak comandanti è particolarmente buono anche perché non sono tutti gli incrociatori tier 5 a montare diciamo la capacità di generare delle flak nei cieli qua il Gnevi devo dire che è molto fortunato e quindi dal punto di vista l'anti-era diciamo che con il danno nelle zone nere è comunque riuscito a farlo certo il danno continuativo è veramente molto molto basso il nostro Makenstein riesce a uccidere praticamente la Kong non volevamo aiutarlo ma non ci siamo riusciti l'altra Serov ora è praticamente nascosta dietro l'isola perché ha visto che comunque prendeva danni da noi e quindi decidiamo a questo punto di accorciare anche perché siamo praticamente full vita e andare poi a spendere tutti i nostri HP in un rush contro la Serov e la Makenstein nemica la Repulse ormai è in completo ripiegamento da questa parte ma è impegnata contro Andrea Doria New Messico Ragnar e soprattutto il Fujin che è un eccellente torpedo boat e quindi l'ultima cosa che dovrebbe fare è preoccuparsi delle navi da questa parte considerando che in seguità abbiamo 4 unità alleate andiamo praticamente che più del doppio dei punti base ormai anche perché non ci sono i cap ma le nostre kill parlano chiaro abbiamo un vantaggio che consiste in quasi il doppio delle navi del nemico a questo punto la Makenstein cercando di accorciare è in realtà una pessima scelta considerando che la Makenstein nemica ha in questo momento più del doppio degli HP degli avversari e tra l'altro è molto interessante questa azione perché vedrete anche quello che è uno dei limiti del Genova ovvero il fatto che il suo timone pessimo da 20 mm venga costantemente danneggiato quando accorcia a lunga distanza la cosa è ancora gestibile e a tutti gli effetti questa nave è una nave da per giocare a lunga distanza ma quando accorciate su un bersaglio anche sotto i 10 km e allora comandati sono cazzi perché a quella distanza il timone viene spesso colpito e danneggiato potenzialmente non solo dalle corazzate ma anche da altri incrociatori nemici siamo passati alle AP anche perché stiamo aspettando un po' che la Porta rimetta fuori la poppa da quell'isolotto cerchiamo di colpire le sovrastrutture della Batschie tedesca entrano a questo punto cosa facciamo raddrizziamo la nostra prua vediamo il conferen quindi mi ricarica migliorata dei nostri canoni principali vestiamo quelle AP e puntiamo la Serov sulla fiancata alla linea di galleggiamento prima che questa possa scomparire dietro praticamente l'isolottino dovremo girare le nostre buone torri il brandeggio di questa nave è veramente buono guardate un po' questa distanza il colpo AP è particolarmente potente non lascia scampo triplo la cittadella è affondata la Porta nemica erano le ultime speranze che avevano praticamente gli avversari di riuscire a vincere la partita a questo punto restiamo con la P andiamo di torpata sul Mackensen che non può vedere ancora i nostri siluri sono molto lenti ma vanno fino a 8 km quindi hanno una buona distanza di ingaggio certo a questa distanza diciamo che averli più veloci non ci sarebbe fatto schifo come detto prima se guardate il nostro timone è completamente andato diamo il damage contro l'Inkandam quindi non possiamo virare siamo obbligati a dare la pancia alla nave lui tecnicamente potrebbe anche cittadellarci con le H.I. ma non fa in tempo a sparare e questi siluri ormai sono sulla sua fiancata e i siluri vanno a segno e affondano la grande corata tedesca 114.000 quasi di danno quarta anzi terza kill peccato non aver ucciso il Negini prima altrimenti questo era potenzialmente un Kraken anche perché tra pochi secondi avremo nuovamente a disposizione dei colpi sul Fubuki e potremo affondare lo di sap anche quello spottato dal nostro Fujin il nostro nemico qua decide di disingaggiare leggermente la porta aerei arriva solo adesso e il Fujin ha deciso di andare nella cortina famogena anzi oltre la cortina famogena quindi non vede il target ma lo vede la porta aerei la porta aerei è uno scherzo praticamente spottarlo e per noi è altrettanto uno scherzo praticamente affondare il destroyer giapponese questa è praticamente l'ultima azione della partita questo è lo screen singolo quasi 116.000 danni 3 cittadelle 4K purtroppo niente Kraken il conferen vi visto che l'antiera fa abbastanza schifo anche se il fighter comunque ogni tanto il suo lavoro lo fa tanti colpi a segno giocando a media e corta distanza solo alla fine e il Genova è questo comandanti è un incursore accorcia solamente quando è sicuro di poter uccidere gli avversari altrimenti è meglio si unestia tra i 12 e i 13 km bombardando i ponti nemici con le sap e le sovrastrutture d'avversaria lo screen della partita è piuttosto eloquente siamo arrivati ampiamente primi rispetto a tutti gli altri mi hanno fatto praticamente il doppio dei punti già del quinto in classifica giusto per farvi capire e andiamo spuderatamente a casa visto come ring è una mappa dove il Genova riesce praticamente a rendere al massimo perché quella arcipelago al centro permette di tagliare in due la mappa velocemente il Genova è una nave velocissima a questo tier è uno degli incrociatori più veloci del tier 5 quindi è in grado di ribaltare velocemente la mappa cercate sempre di non inseguire gli altri ma di andare contro i target che sono più fermi o che cercano tante belle cose come avete visto nella flotta a sud che tra l'altro poteva schierare la maggioranza del tonnellaggio nemico per quanto riguarda i moduli dei skill comandanti sono le seguenti abbiamo appunto il brandeggio torri migliorato il cambiamento dei proiettili AP sap migliorati abbiamo il damage control abbiamo scusate il priority target ovviamente il consumabile in più abbiamo l'invisibilità e la ricarica migliorata quando veniamo spottati e diciamo il nemico è nel raggio d'azione dei nostri cannoni e infine abbiamo anche le sap migliorate che danno veramente un valore in più del 10% a questi cannoni 203 che sono veramente molto buoni ho cercato poi di migliorare il timone per quello che posso anche se comunque avete visto che spesso viene incapacitato e poi moduli rinforzati primari e precisione migliorata per quanto riguarda i fantastici 203 italiani questa è l'armatura del Genova al dettaglio è prurla poppa da 13 mm il pessimo timone da 20 le sovrastature da 10 lo scalino da 16 porta direttamente alla cittadella perché quella è la cittadella della nave 70 mm è altissima e poi c'è questo 16 mm che conferma la zona bassa dello scafo che è la sua protezione antitorp le torri sono bellamente buone avete visto nel brandeggio è molto precisa nel tiro però è pur sempre un incrociatore che gioca ai tier bassi quindi gioca contro corattate molto più grosse e i comandanti di queste torri qua vengono incapacitate spesso non tanto dal tiro di altri incrociatori perché comunque come ho detto prima sono pochi incrociatori a tier 5 che possono schierare 203 mm però comandanti comunque dovete tenere in conto che le torri possono essere incapacitate quando vi sparano contro le corazzate come la Mackensen alla fine per quanto riguarda la cittadella è pessima è altissima è uno dei suoi problemi eccolo qua tutta la zona da 60 40 e 13 è tutta cittadella sono tre zone diverse ma è tutta cittadella diventa poi da 70 laterale ma capite anche voi che la zona è talmente alta che se un incrociatore anche nemico vi trova a 8 9 10 km spara a P e c'è un'altissima possibilità che possa effettivamente cittadellarvi con grande facilità quindi la nave è veramente molto molto vulnerabile tenete sempre cercate sempre di tenere la prua scusate cercate sempre di tenere la prua in allontanamento e di non dare mai un punto di riferimento facile agli avversari perché finiranno col prendervi di mira e anche se avete un buon quantitativo HP questo non basterà per sopperire i limiti di questa giga cittadella per quanto riguarda i punti forti e i punti deboli della Genova sono i seguenti cannoni da 203 mm salva sapo estremamente potente 8 siluri fino a 8 km molto utili nel combattimento ravvicinato come avete visto prima buon quantitativo HP estremamente veloce oltre 36 nodi con la bandierina e poi l'hirstrike intisommergibile non sono tanti poi gli incrociatori tier 5 che montano l'hirstrike molti hanno le bombe di profondità io preferisco di gallunga l'attacco aero del cielo è molto più efficace ed è molto più facile da lanciare e evita soprattutto che dovete andare letteralmente sopra il sottomarino quindi io lo trovo sempre un punto di forza rispetto al classico sistema delle bombe o per meglio dire i barili che lanciate in mare per quanto riguarda i punti deboli spara lentamente e poi il suo vero e proprio punto deboli insieme alla cittadella 20 e passa secondi sono veramente tanti per la nave 20 secondi netti scusate di ricarica ovviamente te ne lascio lavora però comandanti dovete anche attivare la skid sansetti se volete sparare più velocemente ma comunque sono tanti però avete visto che se riuscite a gestire la balistica e a sparare bene il colpo è estremamente preciso e può fare molto male cittadella altissima l'avete visto nel dettaglio il timone viene spesso danneggiato l'avete visto alla fine contro la Mackensen raggio dei canoni principali piuttosto limitato è diciamo il suo problema un po' oscuro perché dovete capire quando ingaggiare o disingaggiare non dovete mai allontanarevi troppo dai bersagli sfruttate sempre la sua velocità perché ci mettete veramente poco ad accorciare state sempre molto attenti ai siluri ma per il resto la nave può veramente muoversi piuttosto agevolmente senza problemi questo aspetto è un aspetto limitante perché comunque è limitato avere questo raggio di tiro però comunque è gestibile avete visto che comunque senza lo scout a bordo e giocando con il fighter siamo riusciti a fare degli ottimi danni e senza poi soffrire più di tanto la prigione questo perché siamo sempre andati noi a cercare i target a cui sparare infine i siluri sono lenti 51 nodi è veramente pochissimo però vanno fino a 8 km almeno un lato positivo c'è e se li sapete lanciare abbastanza bene riuscirete comunque a trovare qualcosa sono impossibili da lanciare contro magari i destroyer o i cruiser che sono troppo veloci ma contro le corazzate i siluri possono comunque essere un'arma in più nel brawling fight avete visto che sono estremamente efficaci contro le corazzate che magari non cambiano velocità o ruttà quando sono nella zona di distanza ravvicinata dal vostro scafo comandanti questo è il Genova nave secondo me molto sottovalutata devo dire che tutto sommato l'ho trovata abbastanza divertente l'ho giocata pochissimo in testa ai tempi invece ho giocata parecchio questa settimana insieme ai panasiatici che devo ancora finire di recensire devo dire che questo video ci stava tutto perché la Genova secondo me è un po' gode di una nomea che secondo me non è propriamente reale perché è un incrociatore che se vi piace giocare nella seconda linea può fare il suo può essere veramente molto utile di supporto alla squadra e scoraggiare chiunque perché questi canoni sono veramente molto 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 potenti comandanti io spero che il video vi sia piaciuto spero che abbiate avuto un po' una idea di quello che è questo incrociatore che magari alcuni di voi potrebbero anche acquistare perché è disponibile attraverso il premium shop e noi ci sentiamo praticamente con un prossimo video vi ricordo che siamo online durante la settimana su Twitch dopo le 8 da lunedì al venerdì e ringrazio tutte le persone che ci seguono la sera nelle nostre avventure tra i mari come sempre a tutti buona caccia comandanti a tutti i